Allora Michele, qui al Teatro Sette, Mediano di Spinta, uno spettacolo divertente ma anche poetico. Lo stile ormai è questo, dobbiamo far ridere, 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 poi a un certo punto diamo una notizia sensazionale che qualche lacrimuccia la fa uscire, facciamo un po' riflettere, questo è lo stile del teatro di Michele Ginesta, di Adriano Bennicelli, con cui scrivo da una vita, questo Mediano di Spinta, che questo è un omaggio a Agostino Di Bartolomei, ci fa piacere, venga accolto dal pubblico, un entusiasmo particolarissimo, infatti abbiamo il teatro semi-esaurito tutte le sere, ma c'è proprio un calore particolare, l'applauso finale ti dà la sensazione di aver colto nel segno. Fino a quando sarete qui al Teatro Sette? Fino al 27 novembre sto al Teatro Sette, poi dopo girerà un pochettino, insomma, al Teatro Sette viviamo, abbiamo la possibilità di, è il teatro mio, capito, io vivo proprio con compassione questa cosa, per me è il terzo figlio del Teatro Sette, mi fa piacere essere tornato qua a recitare, dopo tanti anni in giro per i teatri romani, voglio esaltare il Teatro Sette con questo spettacolo, mi sembra un bel omaggio. Agostino Di Bartolomei, storico giocatore della Roma, peraltro però assistito a un laziale e ti ha fatto i complimenti con le lacrime agli occhi. Ma perché questo è uno spettacolo che va oltre il tifo della Roma, questo è un omaggio al calcio d'altri tempi, questo è uno spettacolo che in qualche modo vuole rispettare coloro che hanno dedicato la propria vita al calcio, fatto con una professione, con una serietà d'altri tempi e sicuramente attraverso il mezzo teatrale riuscire a conciliare calcio e spettacolo e ridere anche di una situazione un po' drammatica come quella può essere di... per arrivare all'omaggio di Agostino mi sembra la cosa migliore. Peraltro voi avete realizzato un piccolo libricino dove c'è inserito il testo dello spettacolo, è un libricino che viene fatto per beneficenza. Ma noi portiamo avanti da anni questo concetto di teatro solidarità, cioè attraverso il mezzo teatrale riusciamo a essere utili a qualcuno, devolvendo la metà degli incassi in molte situazioni, non solo la nostra associazione che è Teatro 7 Solidarità Ollus, ma tante altre associazioni in cui collaboriamo. Questo libricino è il testo dello spettacolo con le foto e l'intero incasso di questo libricino viene devoluto alla nostra missione in Mozambico, noi abbiamo adottato proprio una missione, un progetto di adozione a distanza, abbiamo costruito due scuole, un dormitorio. Insomma, perciò siamo utili divertendoci, mi pare essenziale. Parliamo di un argomento serio divertendoci, facendo divertire, ma anche facendo riflettere. Mi sa che abbiamo colto il segno. La regia di Roberto Marafanta ha fatto sì che io faccio un monologo, che non sembra un monologo perché interagisco con mille ricordi che sono presenti in scena, ho tre musicisti strepitosi che suonano dal vivo queste musiche di Antonio Di Povi, che sono perfette, io non so che vuole più da la vita. Basta vederlo? No, bisogna assolutamente, al Teatro 7, fino al 27, è facile anche da ricordare, Teatro 7, lo aspettiamo. Grazie a tutti.